Buonasera e ben trovati, lo avete visto nella schermata iniziale, ospite di questa puntata dell'intervista al candidato Andrea Liberati, candidato alla presidenza della regione Umbria per il Movimento 5 Stelle. Buonasera e ben trovato. E quindi proseguiamo con voi telespettatori il nostro percorso per farvi conoscere le persone che si candidano a guidare la nostra regione nella prossima legislatura. Nel corso di questa intervista, di questa mezz'ora di intervista conosceremo il loro punto di vista, conosceremo il loro programma elettorale, le loro intenzioni, quello che va, quello che non va, quello che c'è da sistemare. E questo approfondimento dei contenuti dei candidati lo faccio di volta in volta con i colleghi giornalisti della nostra regione e questa sera tocca a Pierpaolo Burattini, redattore del giornale dell'Umbria. Buonasera Noemi, buonasera. Buonasera e ben trovato. Allora, comincio da te Pierpaolo. Buonasera Liberati ovviamente. Perché ci siamo visti con te nell'intervista al candidato, una delle prime puntate, oramai una ventina di giorni fa, e quindi già il fattore tempo è fondamentale per dare un giudizio su come sta andando la campagna elettorale e quindi riformulo la domanda che ti ho fatto venti giorni fa, ma ovviamente la risposta è diversa perché siamo a ridosso proprio delle elezioni. E può dare anche un giudizio di merito riguardo a come è stata condotta questi venti giorni la campagna elettorale? La domanda è la medesima, la risposta è quasi simile. Io pensavo fosse diverso. No, non è diverso semplicemente perché il ritmo di questa campagna elettorale Liberati poi ce lo dirà, è un ritmo diverso dalle altre. Io non so, si vocifera di questa stensione che sia molto alta, non lo so, perché poi gli italiani e gli Umbri quando si tratta di votare, alla fine anche se lo scontento in questo momento per varie ragioni è molto forte, votano. Però è chiaro che la modalità di campagna elettorale rispetto anche a cinque anni fa è differente. Poi Liberati come altri fanno il solito porta a porta, secondo me, giustamente. Però ci sono anche dinamiche di modernità. La tecnologia, le piazze telematiche, Liberati dal Movimento 5 Stelle ne sono l'esempio più lampante, hanno innescato anche diversi modi e diversi rapporti tra elettore ed eletto e la campagna elettorale risente di tutto questo. Poi, signori, l'Italia esce da sette anni di crisi economica, l'attenzione sulla politica molte volte è un'attenzione svogliata, in parte rabbiosa, in parte nervosa. Detto questo, io non sono uno come tanti che liscia il pelo personalmente a questa voglia di starsene a casa. Secondo me il voto è comunque auspicabile. Beh, ma tutti ci auspichiamo che tutti vadano a votare. È ovvio che il voto è sempre una prova del nove rispetto appunto a un modo che i cittadini hanno per parlare e per dire la loro opinione. L'assenzione ha sempre un significato poi alle spalle. Quindi lo andremo ad esaminare il 31, proprio il giorno in cui comincerà lo spoglio. E comunque una campagna elettorale per Paolo segnata da grandi nomi che sono venuti i leader dei partiti, che sono venuti e arriveranno anche in questi ultimi giorni a sostenere i propri candidati. Il Movimento 5 Stelle è stato rappresentato in prima persona da Grillo e Casaleggio nel corso della Marcia della Pace, che ha creato anche un po' di polemiche. Poi gliele chiederò direttamente al candidato. E comunque c'è un tour dei leader dei partiti. Perché questo appoggio proprio di prima persona di petto dei leader dei partiti è una campagna? L'osservazione giusta la tua, infatti. Che sembra un paradosso, perché rispetto a quello che io ho detto, che è una campagna elettorale molto giocata sui mezzi di comunicazione. non questi moderni Facebook o le reti, come dire, Twitter o altro. Però allo stesso tempo l'Umbria in questo momento, io non mi ricordo mai di questo grande afflato di leader nazionali sull'Umbria. Credo che in queste elezioni regionali si giochi anche una partita davvero nazionale. L'Umbria, Liguria, Campania sono terreno di scontro per altre dinamiche che sono altre. Da qui arrivano i leader. Il Grillo è venuto, ha fatto una marcia con Casaleggio, insomma, si sono mossi anche loro. Adesso arriverà Berlusconi, si dice che arriverà Renzi. È chiaro che Salvini ci è stato ben 4-5 volte. Ma insomma, l'Umbria, come le altre regioni, diventa terreno di scontro per dinamiche nazionali. Le elezioni regionali in parte, in parte, dal mio punto di vista sarebbe, come dire, dire che è un test per il governo secondo me è un po' sbagliato. Ma in parte lo sono. Cioè, è chiaro che c'è un'attenzione sulle regioni. I dati elettorali non saranno ininfluenti, voglio dire. Ovvio, certo, certo. Beh, c'è la questione delle bandierine, no? C'è la questione delle bandierine, c'è la questione di che tipo di proposta si fa. Certo. Movimento 5 Stelle, tra l'altro, questa è l'elezione che può essere anche il battesimo per un radicamento sul territorio. Poi Liberati mi dirà, ma insomma, io vedo anche questa dinamica. Loro... Adesso glielo chiediamo ad Andrea Liberati. Vado a presentarlo di nuovo. Buonasera. Classe 1976. Allora, io su Facebook sono andata a cercare la sua biografia. Ha fatto tantissime cose, funzionario della regione dell'Umbria dal 2000 al 2008, che poi ha lasciato, anche dietro le quinte, gli ho chiesto come mai, la decisione di licenziarsi da un posto pubblico così ambito da tutti noi per percorrere altre strade. Poi ha scritto un libro, più di uno, no? Se non sbaglio. L'accenno proprio anche sommariamente, mi perdoni se sono così approssimativa riguardo alla sua biografia che può chiarire anche nel corso della trasmissione. E poi l'ascesa in campo dopo la rinuncia di Laura Lunni per la presidenza della regione Umbria. Allora, è una partita importante sia per lei, immagino, dal punto di vista personale, ma anche per il Movimento 5 Stelle che non ha fino adesso una rappresentanza in consiglio regionale, comunque in regione, di una persona. Quindi qual è il suo obiettivo? Ovviamente, se si candida alla presidenza della regione, è la presidenza della regione. Però, anche un posto, magari a Palazzo Cesaroni, può essere sufficiente per il Movimento 5 Stelle per portare avanti la propria politica? Buonasera, anzitutto. Noi non parliamo di posti, noi parliamo di una filosofia integralmente diversa, radicalmente diversa rispetto a quanto è accaduto sinora. Qui parliamo di un sogno. e io ho avuto già l'occasione, ecco lei ne tracciava brevemente qualche cenno, di viverne un altro. Io credo che l'Italia abbia l'occasione, attraverso il Movimento 5 Stelle, di vivere la possibilità di coltivare una nuova speranza. Quando ho lasciato la mia funzione di assistente gruppi consigliari, quindi ho lavorato in consiglio regionale, ecco, io ho inseguito un sogno americano, perché là stava succedendo qualcosa di importante, che va ovviamente contestualizzato. Quindi il Presidente Barack Obama, sono stato un volontario, poi non sono ovviamente mai più rientrato in regione. Ho poi perseguito questo slancio ideale come attivista nel mondo associativo e anche nel Movimento 5 Stelle e oggi unitamente a tanti amici siamo qua a cercare di rappresentare un'idea diversa di Italia e di Umbria. Questo è il senso. Quindi non andiamo a caccia di posti ovviamente, ma parliamo di un'altra Umbria possibile, nel senso che vorremmo rovesciare completamente questo modo di fare, questo modo di gestire, di sottogestire, sul quale convergono sinistra e destra. Assistiamo infatti a una campagna elettorale spenta anche per questo motivo. C'è un chiaro atteggiamento rinunciatario da parte del candidato Presidente Ricci, c'è un assenza pressoché totale rispetto al confronto da parte della Presidente uscente Marini e noi invece siamo qui, siamo nelle piazze, ci presentiamo in un modo forse per alcuni un po' nazional-popolare ma abbiamo tante cose da dire e lo facciamo sempre, lo facciamo in spirito di verità, seguendo quello che è il nostro spirito e la cornice di valori che anima il Movimento 5 Stelle. Il rispetto adesso attualmente in campagna elettorale e poi anche in futuro, una volta nelle file dei palazzi, nei corridoi, nelle stanze dei palazzi, uso questo termine che è più esatto. Quale sarà il ruolo del Movimento 5 Stelle? Quello di oppositore per eccellenza come vediamo in Parlamento a tutti i costi oppure cercherà insomma una sorta di collaborazione con le altre forze politiche? Questo per far capire che tipo di governo sarà quello del Movimento 5 Stelle. Noi cerchiamo collaborazione con le persone per bene, con soggetti che presentano liste ad esempio caratterizzate da problemi giudiziari per quanto riguarda alcuni soggetti politici, per alcuni individui ecco, lì abbiamo grosse difficoltà a confrontarci. Quindi lei capisce che abbiamo sollevato per la prima volta in questa regione il problema dei candidati impresentabili, quindi di coloro che avendo uno status giudiziario non immacolato si presentano lo stesso, i partiti consentono loro questo. Ecco, questo è uno degli elementi del degrado morale e culturale italiano che noi respingiamo. Stamattina eravamo sotto il palazzo della regione con le nostre scope a significare il fatto che non è possibile che i consiglieri regionali dopo il 31 maggio vadano alla ricerca della liquidazione dei loro vitalizi, cosa che accade per l'altro per la prima volta e che però si annuncia come un vero e proprio dissanguamento per le casse regionali. Parliamo di 4 o 5 milioni di euro. Quindi insomma una cifra notevole. Allora Pierpaolo, proprio partendo da quello che ha detto Andrea Liberati, la campagna elettorale sostanzialmente, insomma lei ha parlato di scope ma io l'ho ritrovati quasi agli inizi con la maglietta, battendosi per il reddito di cittadinanza che poi è stato il filo conduttore della marcia. Allora, proprio di questo volevo parlare perché poi entriamo anche proprio nel programma per capire che cos'è, perché chiedete il reddito di cittadinanza. A Perugia è stato un po' di polemiche, vuoi anche dettate dalla campagna elettorale, insomma quindi contraria ai fini politici, però insomma ha fatto un po' specie il fatto che la marcia, che insomma il Movimento 5 Stelle replicasse una marcia come quella pacifista di Capitini che viene svolta solo a Perugia proprio per rivendicare un proprio punto programmatico. Tu che cosa pensi di questo? No, io francamente questa qui della marcia non ha fatto molto specie, a me lascia, come dire, chiedo a Liberati se questa idea della, come dire, del tutti puri, tutti sporchi tranne noi che siamo puri, paghi. Perché io ancora, questa cosa di Liberati che mi dice dei certificati penali o dei magistrati, come ha detto l'altro ieri in una tribuna politica, non l'abbiamo sottolineato sul nostro giornale, sarebbero andati a scena con indagati, io credo che sia un terreno che se lo si tira fuori si fanno i nomi e i cognomi, se non lo si tira fuori è una polemica abbastanza, come dire, pretestuosa, io la ritengo. Su questo penso questo, poi io credo che l'interessante del Movimento 5 Stelle che si candida, come dire, a entrare nei palazzi della politica perché solo lì si fa politica e si prendono decisioni, sta cosa, chiaro che mi sembra chiara, volevo sapere alcune cose dal punto di vista economico, questo mi sembra interessante, su cui dopo lo domanderò. Io no, sulla marcia Perugia-Assisi ho visto una marcia che mi è sembrata… Qualcuno ha guardato la strumentalizzazione? No, ma mi è sembrata tranquillo, ho visto un popolo che ha sfilato, io queste cose non le ho notate, invece ho notato questi toni, come dire, che comprendo, che però… Andrea? Beh, rispondo molto tranquillamente, non è la prima volta che io personalmente parlo di questi temi, quando ero in Italia Nostra, Associazione Benemerica sotto il profilo ambientale e culturale, ho già rappresentato questo problema che per me come Umbro è un segreto di Pulcinella. Potremmo anche andare oltre, ma io peraltro ho già definito la cerchia delle persone di cui parliamo. Ho parlato di capi delle procure, quanti ce ne sono? Con a cena politici sotto processo, quanti ce ne sono? Pochissimi, ma ce ne sono, peraltro di alto rango. Allora, i nomi e cognomi fateli voi come giornalisti… No, i nomi e cognomi li fa, chi lancia le accuse liberate. No, no, perché queste storie sono vecchie quanto il cucco e io le ho tirate fuori già sei mesi fa e voi avete scritto. No, bisogna capire che ognuno davvero deve cercare di uscire da quella che è una situazione di cappa politico-affaristica che ormai ha coinvolto grandi brani della società italiana e dentro la quale stanno bene in tanti. Allora, perché a noi non interessa questo? Stiamo dicendo semplicemente il fatto che c'è il rischio che la pubblica amministrazione anche a livello giudiziario non sia più neutrale perché accadono episodi di questo genere. Io non voglio parlare di fenomeni penalmente rilevanti, ma certamente rilevare il fatto che ci siano conflitti ambientali anche a quel livello, quindi politico-giudiziario, che è bene che mercano, perché questa non è una terra di santi, perché non è possibile che qua in 45 anni non sia pressoché accaduto nulla, non è possibile che la ex Presidente di Regione Lorenzetti è la procurata di Firenze a chiedere quello che è successo. Evidentemente c'erano problemi, io devo supporre, anche prima, ci sono tuttora, ma nessuno apre. Quando Mafia Capitale tocca una certa cooperativa e le indagini arrivano in Umbria, come mai tutto è silente? Perché c'è una cappa, una cappa ben consolidata, che noi snideremo, perché noi siamo in tanti, ci siamo stancati di questo regime che ammorba l'Umbria e gli Umbri. Tra l'altro comprime il libero mercato pesantissimamente. Allora, adesso una cosa, la devo dire io, insomma, lei ha fatto nomi e cognomi, ha parlato di capi della Procura, eccetera. No, i nomi e cognomi non sono stati fatti. Ha parlato di Lorenzetti e quindi lo dice lei, nel senso che noi non siamo nella posizione di poter, insomma, quindi se ne prende tutta la responsabilità, perché noi come Umbria TV non abbiamo modo di verificare, ma è giusto che ognuno faccia le proprie rimostranze ed è giusto anche da parte nostra di specificare chi ha fatto le rimostranze e chi invece è palcoscenico delle rimostranze, quindi noi come Umbria TV ci, tra virgolette, dissociamo, è una parola brutta, ma devo utilizzarla in questo caso. Voglio dire, Liberati fa giustamente la sua polemica politica, io ho solo detto che invitavo Liberati a fare, per chiarezza, nomi e cognomi circostanti. La cerchia è ristretta? Sì, la cerchia è ristretta. Però ha detto questo. Deve ricadere tutto sul Movimento 5 Stelle, io ripeto, c'è un problema anche nel mondo dei media che devono fare la propria parte per fare in modo che gli Umbri, quindi gli italiani, siano consapevoli. Io ne parlo come giornalista, molto tranquillamente. Sì, sì, ma io... Se poi esistono, parliamoci chiaro, conflitti di interesse, ovviamente non parliamo dei presenti, da parte delle linee editoriali, da parte di soggetti che sono legati a doppio filo, perché ci sono finanziamenti del governo nei confronti dell'editoria, eccetera, questo pure dobbiamo dirci, no? Allora, non siamo liberi, tanti di noi non sono liberi di dirlo. Io sono una persona libera, voglio dirlo e bisogna dirlo, che ci sono delle situazioni consolidate di questo genere, di questi intrecci, che vogliamo raccontare. I magistrati sono uomini come tutti gli altri. Ci sono alcuni magistrati, quelli che ho definito prima, un capo della procura, che è andato a cena con un politico sotto processo. Più chiaro di così, non so che bisogna dire. Non è stato mai detto, ad esempio, il fatto, e di questo io provo rabbia, irritazione profonda, che il Presidente del Consiglio regionale sta andando sotto processo d'appello. Questo non viene detto. Perché? Allora, io vorrei che si raccontasse questa storia. Perché il Presidente dell'Assemblea Legislativa d'Italia, peraltro, e non ne parla nessuno, non ne parla la destra, non ne parla la sinistra, ne parliamo noi. E' grave. Nella mia visione anglosassone, questa storia sarebbe finita da un pezzo. Chiaro? Quel partito ha deciso di candidarlo di nuovo, sta lì. Io credo che siamo lontani da quello che è la visione occidentale media, diciamo, del rapporto con la Repubblica. Parla Andrea Liberati, ovviamente. Certo che parla Andrea Liberati. Andiamo avanti. Io stavo parlando di reddito di cittadinanza. Abbiamo qua, nel corso della nostra trasmissione, altri candidati. specifico il nome Vecchietti, la lista Tsipras, la chiamo così, anche se ha un nome diverso, ma comunque anche loro sono per il reddito di cittadinanza. Insomma, è una cosa che vi accomuna. Quali sarebbero i vantaggi? E poi andiamo proprio ai contenuti del programma. Quello di cui abbiamo parlato fino adesso è la lotta del Movimento 5 Stelle per, no? Ma per il governo della città, dell'Umbria, della nostra regione, il Movimento 5 Stelle, che cosa farà? Ci sono molti problemi da risolvere, no? Dunque, per quanto riguarda le reddito di cittadinanza, noi riteniamo che questa misura serva ad aiutare non soltanto le persone che sono nella disperazione, nella rassegnazione, ma il mercato interno, perché si tratta di, nel caso dell'Umbria, 125 mila persone che sono sotto la soglia della povertà. L'introduzione di una misura che è prevista in tutta Europa, eccetto Italia, Ungheria e Grecia, era peraltro richiesta già nel 2011 dalla famosa lettera della BCE per compensare il discorso della flessibilità. Ora, quindi, la misura in sé, quanto di più, vorrei dire, banale esista, soltanto che perché noi siamo dentro una gabbia culturale, indirizzata chiaramente dalla vecchia politica che ci ha portato a non sapere anche, no? Ciò che accade attorno a noi, ecco, a noi sembra chissà che cosa. Abbiamo detto, abbiamo visto quindi che un paese come la Francia, la Germania, eccetera, ce l'ha. Qual è il problema? In Italia non ci sono i soldi, i soldi ci sono, soltanto che vanno trovati. Vanno trovati dove? Da chi non li ha mai pagati, da chi non ha mai contribuito effettivamente al progresso civile e morale di questo paese. Nel caso dell'Umbria, tra costoro, ci sono certamente le grandi attività legate alle derivazioni idroelettriche, quindi parliamo delle società idroelettriche che pagano niente, quasi nulla di canoni, che peraltro non finiscono sui territori e che possono essere innalzati dieci volte. Allora, nella attività idroelettrica bisogna sapere che la speculazione consente una rendita annua pari al 250%. Questo accade in Umbria, perché l'Umbria praticando canoni così bassi, come peraltro accade con le acque minerali, praticamente svende il proprio prodotto acqua, bene comune, non delocalizzabile. Quindi qual è il problema di innalzare i canoni? Nessuno, perché si tratta sostanzialmente di mutuare lo stesso approccio che hanno altre regioni, tra cui Abruzzo, Lombardia e provincia di Bolzano. Liberati, lo sa se si alza il canone e le imprese saltano per aria? Ma che cosa dice? La rendita pari? No, assolutamente. Va bene, lei dice che si può fare. No, no, gli spiego questo. Se noi lasciamo i canoni in questo modo, così bassi, noi rischiamo di essere preda continuamente di grandi società finanziarie, per la finanziarizzazione dell'economia che è in atto ormai da anni, società che saltano costantemente. Il caso della San Gemini, all'epoca c'era Gnotti, il grande finanziere, e ce ne sono altre così. Quindi noi riteniamo che sia anzi il modo per contenere questa spinta. 80 milioni di euro annui persi, senza toccare i canoni. Canoni che non ricadono, peraltro, sull'economia reale, come si suol dire. Ma c'è l'occupazione dietro alcune fabbriche che si occupano l'imbottigliamento di acqua, mi risulta che c'è l'occupazione. Sì, c'è l'occupazione, ma come vede saltano in ragione di altri meccanismi, che sono quelli, appunto, l'abbiamo detto, della finanziarizzazione dell'economia. Quando tu fai pagare nulla e consenti un guadagno del 90-95%, perché questi sono i guadagni sull'acqua minerale, penso che tu possa tranquillamente contenere questo guadagno e redistribuire quei denari alla popolazione, perché, peraltro, quei denari finiscono spesso in Germania, Svizzera e altrove. Quindi è un modo per finanziare le casse della regione. Certo, esattamente. Adesso che mi inserisco su questa vicenda dell'economia, mi ha sempre un po', come dire, mi ha incuriosito questa vostra posizione sull'Ast, che lei mi deve confermare o smentire. E cioè, il Movimento 5 Stelle o alcuni suoi parlamentari hanno proposto la nazionalizzazione dell'Ast. È così? Non è così. Non è così. Noi abbiamo proposto l'ingresso, indubbiamente, della Cassa Depositi e Prestiti, che può essere una quota di partecipazione importante. Che significa? Significa quello che è successo a Taranto. Taranto, transitoriamente, ha il supporto della Cassa Depositi e Prestiti, come è noto, per circa 3 miliardi di euro. Perché noi non siamo meno di Taranto? L'Umbria non è meno della Puglia. Credo che noi abbiamo diritto a una compensazione che è non soltanto occupazionale, ma anche e soprattutto ambientale, e che è quindi la svolta per la concaternana, indubbiamente, da quel punto di vista. perché credo che sia noto alle cronache il fatto che, devo dire, anche con l'impegno del sottoscritto e di tanti amici, sono venuti fuori i dati della pesante contaminazione, anche alimentare, determinata da PCB e metalli pesanti, appunto, nell'aria, nei suoli e nelle acque. Allora, noi abbiamo bisogno che qualcuno investa per rinnovare, riqualificare questi impianti. E questo è possibile, probabilmente, soltanto attraverso un deciso ingresso dello Stato. Ora, qual è il punto? Che se non lo facciamo, non lo individuiamo, non accompagniamo politicamente questo processo, sarà la magistratura a farlo. Perché già ci sono... Anche qui la magistratura ha liberato. È ovvio, perché una magistratura che ha coraggio di muoversi e di farlo, già ha, in questo momento, lei lo sa, credo, dottore, ci sono quattro procedimenti in corso, sull'asta. Sì, ma tu che sei stato in America a fare la campagna elettorale per Obama, no? Ma non è paragonabile a me. No, aspettami. E sei, credo, un cittadino del mondo. Questo pieso spinto sulla magistratura, io un minimo di garantismo, lo sai che lo trovo da parte culturalmente sano. Ecco, invece vedo che tu spingi, il Movimento 5 Stelle spinge su questa cosa, ogni tanto, dalla San Gemini ai Vitali, questa magistratura, una volta criticata, una volta tirata in basso. Io non ho nulla a questio. Allora, lì si stanno muovendo, si stanno muovendo dopo decenni. Noi, un attimo, facciamo un momento locale e contestualizziamo. Stiamo subendo 600 posti di lavoro in meno, pur incentivati, che seguono altri 500 della volta scorsa. Stiamo subendo una pesantissima contaminazione ambientale, pesantissima. La magistratura si è mossa a seguito di numerosi esposti, ci sono appunto quattro procedimenti aperti, di cui due processi. Allora, lei capisce che, tu capisci che o la politica si muove in fretta, in fretta, e trova un metodo, un rimedio, uno strumento, che è quello già, quindi che bisogna soltanto mutuare da altra esperienza, oppure le cose andranno come devono andare. Poiché la politica non c'è, questo è il problema. Parla di Vitalizi, non parla di AST, non parla di Ria di di corroborare il piano dell'amministrato delegato. Oppure, Aria di crisi complessa, non c'è niente, non c'è niente. C'è una mozione approvata e è finita lì, è passato un anno, anno e mezzo. Cioè, è una politica da dinosauri, una politica interessata a autoreferenziale. Insomma, noi cerchiamo soltanto soluzioni, le proponiamo. Quella della cassa è una soluzione, in fondo, o del fondo strategico, è una soluzione che è nelle cose che è, semplicemente, ripeto, da mutuare da altre esperienze. Siamo in chiusura e quindi, come con tutti i candidati presidenti, ho un fazzoletto bianco, simbolo di pace, proprio perché abbiamo parlato di... Ma non è che siamo stati agguerriti, diciamo. Lei ha detto di sto abbastanza in vena, eh, per me. No, no, ma il Movimento 5 Stelle è anche un movimento che porta a una sana conflittualità. Loro sono pugnaci e perciò bisogna essere un contraddittorio, serve un contraddittorio, come dire, incalzante, perché loro di temi ne pongono, eh, sono certo delle mammolette politiche. Però adesso io uso questo fazzoletto per fare, per farle una domanda da cittadina, nel senso una volta a Palazzo, la prima cosa, da dove comincerà? Abbiamo... Questo è il nodo al fazzoletto. Ci siamo impegnati pubblicamente già, eh, queste settimane per il Radio Cittadinanza, che significa, appunto, la possibilità di dare uno spazio vero al mercato interno, un ritorno alla dignità per centinaia di migliaia di persone, ma, eh, soprattutto, eh, una possibilità di riscatto, un seme di speranza, è questo. Quindi, innalzamento immediato di questi canoni, finalmente se ne potrà parlare, e quindi una revisione minima, due per cento, abbiamo detto, del bilancio, così da consentire, con una scelta politica chiara, eh, a queste, a queste persone, a queste famiglie, sono tanti, sono tantissimi, noi stessi siamo oggetto di, di richieste pressanti, urgenti, da parte di, di tanti, è un disagio che, che ci sta, sono nostri fratelli, ecco, eh, per costoro ne dobbiamo lavorare. Ci impegniamo su questo. Nodo al fazzoletto, lo fa? Certo, se ci riesco. Me lo deve restituire, eh? Ah sì? È certo. È bene, ringrazio. Il candidato si vuole portare via il fazzoletto. No, 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 me lo deve, eh beh, lo restituiamo. Grazie. Bene, questo è il nodo al fazzoletto di Andrea Liberati, candidato presidente per la regione Umbria del Movimento 5 Stelle, in bocca al lupo e buona conclusione di campagna elettorale. Grazie per Paolo per essere stato con noi, Pierpaolo. Noi non concludiamo però qui, andiamo avanti. Noi andiamo avanti, andiamo avanti, abbiamo altre puntate con altri candidati da affrontare per farveli conoscere. Grazie, buonasera Noemi. Grazie per Paolo Burattini, grazie, grazie a voi per averci seguito, alla prossima puntata e arrivederci.